Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale e tv siti. Il governo pensa già al Natale e al vaglio in queste ore dei ministri un decreto che possa regolare le misure di prevenzione dopo il 3 dicembre e in vista delle festività natalizie. Si pensano misure più blande come la riapertura degli esercizi chiusi in questo periodo e soprattutto lo spostamento dell'orario del coprifuoco di due ore, quindi verso mezzanotte. Consueto punto sull'emergenza nel Vesuviano dove il numero dei guariti sta arrivando a bilanciare quello dei nuovi positivi. A riguardo abbiamo parlato col sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione che ha denunciato misure tardive prese dal governo, ha ricordato che il Covid uccide ancora ma soprattutto vuole spostare l'attenzione sull'economia e sulla crisi socio-economica che sta vivendo la popolazione. E sempre riguardo alla crisi socio-economica abbiamo parlato con l'assessore alle politiche sociali di Torre del Greco, Luisa Refuto, che ha illustrato le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale per contrastare appunto la crisi economica che stanno vivendo i cittadini torresi. L'obiettivo è quello di arrivare a un Natale in tema di solidarietà. E chiudiamo con la cronaca dove la Guardia di Finanza ha sequestrato su tutto il territorio napoletano fuochi d'artificio illegali, molti anche a Ercolano. Erano tutti pronti a essere messi in commercio per le festività natalizie. Questo e molto altro nei nostri servizi. Allentamenti e deroghe alle misure anticontagio a partire dal 3 dicembre. È cominciato il lavoro del governo per impostare il nuovo DPCM. Per quella data, sperano a Palazzo Chigi, la maggior parte delle regioni dovrà essere in fascia arancione o gialla, uno scenario di rischio meno grave che consentirebbe di inserire nel prossimo decreto alcune aperture in vista del Natale. Non sarà un liberi tutti, conferma Conte, ma i negozi, bar e ristoranti potrebbero alzare le saracinesche. Al vaglio l'ipotesi di inserire orari continui per l'apertura degli esercizi, in modo da consentire un naturale scaglionamento dei clienti. L'idea è quella di dare maggior respiro alle attività chiuse in questo periodo, affinché possano risollevarsi economicamente nel periodo più redditizio dell'anno. Al vaglio anche l'ipotesi di ritardare il coprifuoco imposto alle 22 di almeno un paio d'ore. In questo modo sarà possibile a tutti passare, ad esempio, il cenone di Natale in famiglia. Il percorso si comincerà a valutare oggi nella riunione convocata ai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia con i governatori delle regioni. Intanto è stata annunciata l'entrata in zona rossa da domani dell'Abruzzo, mentre rimane a rischio la Puglia, nonostante la scelta del governatore Emiliano di chiudere le province di Foggia oltre a Barletta, Andria e Trani, mentre il Veneto esclude di poter passare in arancione. In quasi tutta l'area vesuviana si conferma il trend di aumento per le guarigioni, ma salgono anche i contagi. Sono 61 i cittadini sanitori e il greco guariti dal Covid-19 solo nella giornata di ieri. Questo affronta i di 28 contagiati, un numero ben più basso rispetto ai picchi dell'ultima settimana. Il bilancio, quindi, arriva ad 888 torresi positivi, di cui 18 ospedalizzati. Dati che però vengono aggravati dalla morte di una concittadina di 89 anni, risultata positiva al tampone solo post-mortem. Intanto l'amministrazione comunale ha predisposto l'opera di sanità, la magnificazione straordinaria delle strade di tutta la città, una misura adottata già in primavera per contrastare il diffondersi del virus. Bilancio quasi in pareggio anche per Torre Annunziata. Ieri sono stati registrati 69 casi di contagio a fronte ai 63 cittadini guariti. 458 sono i cittadini attualmente positivi, di cui 12 ospedalizzati. Anche il sindaco di Ercolano, Ciro Buonaiuto, ci ha confermato un aumento delle guarigioni nei suoi concittadini. Stessa cosa per Castellammare. Stabile il numero dei nuovi positivi ed ancora alto il numero dei guariti. Ieri sono stati 51 i nuovi contagi registrati, fra cui però molte persone anziane. Invece a sconfiggere il coronavirus sono stati in tutto 27 stabiesi, tra cui alcuni ragazzi molto giovani ed un bambino di un anno. Un segnale di speranza nel dramma che sta vivendo il comune in questa seconda ondata. In collegamento con TV City, il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha fatto il punto sull'emergenza Covid-19 nel suo comune. Si conferma ancora l'aumento delle guarigioni giornaliere. Recentemente in questi ultimi giorni stiamo arrivando ad una sorta di equilibrio tra persone contagiate e persone guarite. Cioè ieri una sessantina di nuovi positivi in due giorni chiaramente e una sessantina di guariti. Tuttavia per il primo cittadino il governo avrebbe dovuto agire prima per arginare i contagi. Ritengo che probabilmente sono stati un po' tardivi questi provvedimenti perché si è visto da subito che soprattutto la rete ospedaliera, la sanità nel suo complesso è andata un po' sotto stress nel momento in cui i numeri sono cominciati a salire. Altra problematica riguarda i risultati dei tamponi. I dati, per questioni burocratiche, vengono spesso trasmessi con ritardo dagli organi preposti. C'è stata anche una leggera distonia tra i dati che venivano comunicati dalla regione Campania con la piattaforma Sinfonia, mentre la piattaforma dell'ASL non riusciva a leggere con immediatezza questi dati. Quindi questo ha creato ulteriore confusione. Probabilmente lì è venuto a meno la capacità di tracciare poi questi contagi e questo probabilmente ha favorito una maggiore diffusione dell'epidemia. Per Ascione i contagi sono avanzati principalmente a causa dei giovani che, fuori controllo a causa delle misure più blande di quest'estate, si sono riuniti nelle zone della Movida più frequentate della città. Abbiamo avuto notevoli fenomeni di assembramento in determinati luoghi della città, in particolare la curva di via Ginolfanil, gli spazi antistante allo stadio, che sono luoghi dove si assembrano e si assembravano nel passato per anche lunghi periodi i giovani di Torri Anunziati. E purtroppo il contagio tocca particolarmente anche queste fasce giovanili. Noi abbiamo fatto un'ordinanza per chiudere questi luoghi della Movida, soprattutto dalle 6 del pomeriggio fino alle 22, quando non c'era ancora il provvedimento della zona russa. Adesso con il provvedimento della zona russa devo dire che il territorio è fortemente controllato dalle forze dell'ordine che sono un po' distribuiti su tutto il territorio e stanno ponendo anche dei posti di blocco un po' ovunque. La preoccupazione del sindaco è principalmente rivolta alla crisi sociale ed economica che sta vivendo gran parte della popolazione a causa delle chiusure. Stiamo cercando anche di mettere in campo delle ulteriori azioni di sollievo nei confronti della popolazione. Adesso, forse oggi, farò il provvedimento per sospendere l'applicazione delle strisce blu sul territorio. Stiamo preparando un bando per l'individuazione di cooperative sociali che ci possano dare una mano nell'alleviare anche l'attività delle famiglie che ospitano dei positivi nella loro casa e quindi per portare un po' di assistenza domiciliare a queste persone. Insomma, stiamo cercando di mettere, focalizzando alcuni tipi di interventi in un momento molto critico, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sanitario. Ascione ha infine lanciato un importante appello a tutti i suoi concittadini. Invito i miei concittadini ad essere veramente responsabili, ad evitare comportamenti che potrebbero peggiorare la situazione perché purtroppo questo virus uccide ancora. Iniziative voucher per le famiglie per trascorrere un Natale solidale. Sono le misure messe in campo dall'amministrazione Palomba per fronteggiare la crisi economica sul territorio dovuta al Covid. Negli studi di TV City l'assessore alle politiche sociali Luisa Refuto illustra le attività messe in campo dal Comune. L'amministrazione ha voluto mettere in campo una serie di iniziative. Il lavoro a cui arriviamo oggi è sicuramente un lavoro di squadra. Io mi confronto generalmente anche con i miei consiglieri di riferimento, Caldarola e Brancaccio della lista Il Cittadino e a seguito di questa collaborazione quotidiana l'amministrazione Palomba oggi parte con una serie di iniziative. Prima di tutto la questione dei voucher, i buoni spesa che possono essere spendibili nelle attività commerciali di Torre del Greco entro il 31-12. Sono buoni che in pratica vanno alle famiglie indigenti proprio per dare la possibilità di poter usufruire anche di poter fare una spesa decorosa che si spera di poter compiere a Natale. L'avviso pubblico è visibile sull'albo proiettore del Comune di Torre del Greco e la modulistica è sempre scaricabile sul sito e va inviata tramite indirizzo PEC o tramite semplice email. Non solo voucher alimentari, partito in queste ore, anche un avviso pubblico di coprogettazione per individuare soggetti del terzo settore, per progettare e gestire servizi socioeducativi e socioassistenziali a favore delle famiglie del territorio in particolari difficoltà. Con questo avviso di coprogettazione ci rivolgiamo agli enti del terzo settore per dare la possibilità alle famiglie indigenti di trascorrere un Natale sereno. L'idea è quella di attivare una distribuzione per tramite della cooperativa, che comunque verrà individuata tramite procedura pubblica, distribuzione di pasti caldi, di pacchi alimentari, tutto gestito dalla cooperativa. Inoltre è previsto lo stanziamento dell'istituzione di un fondo di solidarietà. Con questo fondo di solidarietà è possibile aiutare le famiglie indigenti per il pagamento delle utenze, a titolo esemplificativo la bolletta del gas, della luce, oppure per comprare medicinali. Un'ulteriore attività prevista sempre con questa progettazione è quella di permettere ai bambini che purtroppo hanno genitori con problemi economici di trascorrere un Natale sereno e quindi è prevista anche l'acquisto di regalini per i bambini che possono quindi trascorrere un Natale sereno come giusto che sia. Operativo anche un centralino per fornire supporto psicologico alle persone in isolamento domiciliare. Con l'assistenza di prossimità l'idea dell'amministrazione Polomba è quella di dare possibilità anche di poter avere uno sfogo diciamo con una persona competente, in questo caso uno psicologo. L'assessore risponde infine alle polemiche sui social per i soldi investiti dal comune, per le luminarie e il programma di Natale. La polemica potrebbe avere senso se ci fossimo dedicati soltanto alle luminarie, c'è da dire che questa variazione è stata fatta in un momento in cui si sperava di poter tornare alla normalità, si sperava di poter vivere un Natale sereno. L'amministrazione decide comunque di portare avanti l'idea delle luminarie, seguo la linea sposata dal sindaco Giovanni Palomba, perché comunque tutto il resto non l'abbiamo dimenticato, perché comunque noi siamo speranzosi di poter trascorrere un Natale sereno e come ha detto il sindaco preferiamo una città con le luci per vivere comunque un Natale sereno, tenendo comunque conto di tutte le altre attività che come abbiamo detto abbiamo comunque messo in campo, quindi abbiamo ritenuto di dare comunque lustro alla città anche con le luminarie. 4.300 fuochi d'artifici illegali e pericolosi del peso complessivo di oltre 260 kg, 4 arresti e 2 denunce. Questo è il bilancio di una vasta operazione portata a termine dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. In particolare i finanzieri della compagnia di Giuliano in Campania hanno scoperto a casa 9 di Napoli una fiorente attività di commercio di botti illegali del tipo Cobra. Sequestrati 2.100 artifici pirotecnici altamente pericolosi del peso complessivo di 117 kg e con massa attiva di 52 kg, prodotti artigianalmente detenuti in maniera non conforme, tratto in arresto un sessantenne. In un secondo intervento le stesse fiamme gialle unitamente ai colleghi della compagnia di Portici hanno sequestrato 1.044 fuochi illegali del tipo Rentini detenuti dal titolare di una ditta individuale di Ercolano. Anche in questo caso il materiale esplosivo del peso di 33 kg era detenuto illegalmente all'interno del magazzino, denunciato un 66enne di Ercolano. Nel corso di un terzo intervento i finanzieri della compagnia di Giuliano, in stretta sinergia con quelli della compagnia di Portici, hanno individuato ad Ercolano un commercio all'ingrosso di botti pirotecnici proibiti, traendo in arresto un sessantenne di Ercolano, un trentenne e un ventisettenne di Napoli. Infine nel corso di una quarta operazione i baschi verdi del gruppo pronto impiego di Napoli hanno notato un soggetto che trasportava alcuni pacchi di grandi dimensioni all'interno di un magazzino. I finanzieri ne hanno prima controllato il contenuto rinvenuto a artifici pirotecnici di categorie F1 e F2 e hanno poi esteso le perquisizioni all'interno di un magazzino di Erzano, scoprendo 1164 artifici pirotecnici pericolosi, denunciato un 34enne di origine cinese. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani per un altro Tg.